sorpreso più volte dalla polizia a spacciare cocaina nella zona di ponte san giovanni un albanese di 32 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di perugia in particolare nei giorni scorsi il giovane è stato visto salire su una fiat il conducente un marcianese di 46 anni fermato poco dopo ha consegnato agli agenti un involucro di cellophane con un grammo di cocaina e una volta condotto in questura avrebbe rivelato alcuni particolari sullo scambio che era avvenuto attraverso il contatto telefonico con il venditore l'albanese un 32enne clandestino con precedenti per reati legati alla droga è stato trovato anche con 4 grammi di cocaina a casa aveva anche circa 3500 euro modalità analoghe di spaccio sono state poi accertate in altri tre episodi e gli agenti hanno assistito allo scambio tra droga e denaro con una ragazza nel parcheggio di un supermercato grazie a tutti